Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction stasera Milan Cagliari Ragazzi ci siamo siamo arrivati alla partita che ci può regalare il ritorno in Champions League ragazzi Infatti se stasera i ragazzi andranno a vincere sarà Champions Io sono in una condizione mentale molto difficile sono in difficoltà non lo nascondo sono veramente in ansia perché ritornare nell'Europa che conta dopo così tanti anni è sempre una grande emozione Quindi niente ragazzi io alle ore 8 e 30 sarò live sul canale Twitch Milan Inside mi raccomando link in descrizione per venire a seguirci su Twitch Lasciate un bel like al video iscrivetevi anche al canale qua su Youtube mi raccomando e niente vi auguro una buona visione della reaction e speriamo di vincere questa partita Le formazioni di stasera partiamo dai padroni di casa ovvero dai ragazzi siamo a San Siro Formazione del Milan Donnarumma, Calabria, Kier, Tomori, Teo, Benasser, Chessi, Salemakers, Brahim, Cialanoglu, Rebic Formazione del Cagliari Un Cagliari già salvo aritmeticamente Cragno, Carboni, Godin, Cepitelli, Lico Giannis, De Iola, Marin, Nainggolan, Nandez, João Pedro, Pavoletti Signori e inizia, buon Milan Cagliari Palla lunga, Kier contro Pavoletti vince Kier, che sì, palla per Benasser, ripartiamo, mettici la punta, recupera Nandez Nandez sbaglia il passaggio, Cialanoglu può partire, Ciala, Ciala in fascia, Ciala si accentra Palla per Sale, Salemakers, Sale, prova il tiro, Cragno sopra la traversa, prima occasione al diciassettesimo Porca miseria, bel tiro di Salemakers, bravo Cragno Sappiamo che abbiamo un avversario scomodo in porta Qua errorissimo di Nandez, palla regalata a Ciala, che si accentra la giocata a Salemakers E' sopra la traversa Teo No, non è riuscito a trovare l'1-2, ma palla che ritorna da Ciala Ciala, prova palla per Brahim Diaz, ultimo assalto Rebic, Brahim, fuori dall'aria, Brahim La gioca a Sale, 1-2, attenzione Punizione pericolosissima per il Milan Al 45esimo Bravissimo Brahim Diaz Con i suoi super piedini veloci Ha provato ad allargarla Salemakers, ma viene steso dentro La lunetta dell'area di rigore Quindi punizione vicinissima Per i ragazzi Punizione vicinissima Speriamo che Chilacalci abbia il piede caldo Un minuto di recupero Palla per Brahim Se l'è allungata L'ha allargata Saleemakers, ma... Grande, bravo Brahim Bravo, 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 brahim Bravissimo Eh sì, vuol dire, eh sì No, non è che non possiamo sfruttare Cioè, che non potete Ah no, che non potete non sfruttare Scusa, non avevo letto il primo nome Punizione pericolosissima Poi si chiuderà qua Il primo tempo Eh, qua ragazzi Cioè, basta metterla sopra la traversa Poi, oh, se la metti sotto l'incrocio E lui la para Bravo lui Però... Dei provare a metterla sopra la traversa Queste punizioni qua per i portieri Sono una rottura, raga Sono veramente una rottura Ve lo dico io che nel mio piccolo Quando prendo... Quando subisco fallo Lì vado sempre in crisi Con queste punizioni qua Sulla palla Ciala, Brahim Ah, scusate Ciala, Ben Nasser e Teo Perché? No, Ben Nasser no Allora, da lì potrebbe andarci Ehm... Ciala Anche un Teo Pronti a battere questa punizione Siamo al 46esimo Minuto di recupero scaduto Attenzione Massa fischia Parte Ciala Ciala Il tiro sulla barriera Palla che resta lì Calcio d'angolo Non era stupida come battuta Ma l'ha calciato sul primo palo E niente da fare Massa Fa il simpaticone Indica il calcio d'angolo Per andare a batterlo Mentre prendono la palla Stiamo per andare a batterlo Questo fischia la fine del primo tempo E' lui che ha detto di andare a batterlo Eccolo Il tuo pronostico Gianni è già volato Ragazzi Si riparte Con il secondo tempo di Milan Cagliari Punteggio di 0 a 0 Unica sostituzione per il Milan Fuori sale Makers Dentro layout Forza Olimpia Joao Pedro Joao Pedro Palla sul secondo palo Per Pavoletti Pavoletti di testa Donnarumma Gigio 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 Palla ancora per il Cagliari Prova il tiro Chierre spinge Miracolo di Donnarumma Su Pavoletti Pavoletti ha due passi Colpisce di testa E Gigio E Gigio compie Un miracolo Ancora Zizio Bella Mirko Calcio d'angolo Cagliari Attenzione Palla dentro Stacca Godin Donnarumma Miracolo di Gigio E' il misimo miracolo di Gigio Che ci tiene in piedi Che ci tiene in piedi Che si spazza Che cazzo ha parato Ma che cazzo ha parato Ma che cazzo ha preso Ma rinnovate sto qua Ma rinnovatelo Ma rinnovatelo Ma che cazzo ha parato 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 Miracolo di Gigio Su Godin Lancia su Fai qualche Lanciala su E finisce qua Finisce qua Milan 0 Cagliari 0 Niente da fare ragazzi Nella Champions League Si giocherà Domenica prossima A Bergamo Atalanta Milan Domenica prossima